Rivoluzioni in corso alla Camera di Commercio di Firenze. A partire dal 2015, i 9,5 milioni di euro che l'ente riversa ogni anno sul territorio fiorentino verranno ridotti a zero. E non solo per effetto della riforma del sistema camerale che è al momento allo studio del governo Renzi e che prevederà la riduzione del 50% dei diritti camerali, ovvero delle entrate garantite alle Camere di Commercio. La scelta del neopresidente fiorentino Leonardo Basilichi è infatti tutta di principio. Cancellare i fondi distribuiti a pioggia tra fondazioni, eventi, scuole di moda e manifestazioni per razionalizzare le risorse incanalandole verso un'unica direzione da definire in sinergia con regione e comune. Basilichi ha anche previsto un servizio di tutorship che partirà immediatamente e servirà per aiutare le strutture che finora dipendevano dai fondi della Camera di Commercio a trovare finanziamenti alternativi. Più in generale comunque la Camera di Firenze punta a estendere i servizi offerti alle 100.000 imprese fiorentine. Noi ci metteremo a disposizione per trasformare quello che è oggi sentito un costo in un'opportunità, lo decideremo se siamo a loro. Noi abbiamo pensato che oggi l'online è un elemento basico, non c'è bisogno di inventare niente e dove non arriva online i servizi a domicilio per cercare di avvicinare la Camera. Occhi puntati poi sui nuovi ricavi e in questo senso Basilichi punta a mettere sul mercato il patrimonio immobiliare della Camera di Commercio che cercherà una sede meno centrale e più economica. Ultimo tassello le partecipate che sono oltre 130. Basilichi punta a rimanere socio solo nelle aziende che portano utili per uscire progressivamente da quelle che rappresentano solo un costo.